E' proprio la notizia della miniera in sé che ci riporta indietro nel tempo. Da questo punto di vista sembra un passato del quale non riusciamo a liberarci. Va detto però che in Turchia si muore tanto e quindi si muore tanto per incidenti sul lavoro. Il paese che ha uno dei più alti tassi di mortalità sul lavoro. E questo mi introduce a una seconda osservazione, che è quella della scaletta, a proposito della scaletta. Lo dico un po' da credente e mi risuonano un po' le parole di Papa Francesco quando dice oggi la comunicazione è relazione. Beh, io davvero non saprei stasera se relazionarmi tanto con Berlusconi, Renzi e Grillo. Forse nella psicologia, ma non solo, nella psicologia delle masse, comunque di chi fa, di chi ascolta e di chi vede le immagini, forse questa era l'occasione per creare una relazione, un ponte con un popolo. Le cifre dei morti supereranno forse 300 le vittime. Abbiamo visto scene strazianti. Probabilmente non siamo ancora capaci di cogliere questo nesso. Di quando c'è davvero la comunicazione può diventare relazione fra gli uomini. In fondo, questa è un'occasione un po' sprecata, secondo me.